Nel primo atto del play-out il Biceglie si impone di misura sulla Paganese e ribalta l'inerzia di una serie che rimane tuttavia estremamente in bilico. Un tempo per parte sul Prato del Ventura, nerazzurri aggressivi e capaci di approdare all'intervallo sul doppio vantaggio griffato da Makotà e Priola, ripresa di marca ospite con la rete di Diop che rimette in discussione l'esito dello spareggio, benché il Biceglie possa ora beneficiare di due risultati su tre nella sfida decisiva di sabato prossimo al Marcello Torre. L'avvio spigliato dell'undici allenato da Giovanni Bucaro è certificato dal vantaggio dopo 14 minuti con un'azione innescata da Cittadino, proseguita da Mansur e rifinita da Makotà, che beneficia di un rimpallo ed incenerisce Baiocco con una precisa rasoiata in corsa. Nerazzurri da capo insidiosi al ventunesimo con Vona, il cui colpo di testa su assist da calcio piazzato di Cittadino finisce di un soffio sulla destra della porta avversaria. La prima occasione campana arriva al venticinquesimo con Diop, la cui zampata nel cuore dell'aria è neutralizzata dal tempestivo intervento di Spurio prima che la retroguardia sbrogli in angolo. Corre il trentaquattresimo quando il destro su punizione di Mattia, da posizione defilata, viene neutralizzato in tuffo dall'estremo di casa. Raddoppio Bicegliese al trentasimo, Cittadino pennella dalla bandierina per l'avvitamento in acrobazia di Capitan Priola che non lascia scampo a Baiocco. Al quarantaquattresimo i locali accarezzano il Tris ma Baiocco compie una prodezza smanacciando oltre la traversa il bolide dal limite dell'aria di Cittadino. In avvio di ripresa il tecnico della Paganese Lello di Napoli inserisce la punta guadagni per il difensore sbampato con relativo passaggio al 4-3-3, mentre Bucaro dispone a specchio i suoi uomini dal quindicesimo con l'ingresso di Romizzi per Makotà. La pressione costante della Paganese è premiata al ventunesimo, cross dalla sinistra di Zanini per l'inserimento sotto misura di Diop che anticipa Vuona e dimezza il passivo. Il Biceglie replica con un rasoterra al lato di Sartore, quindi nelle battute conclusive espurio ad opporsi con prontezza ai tentativi di Diop, squillace e guadagni. Da domani scatta dunque la settimana più lunga della stagione per la squadra del presidente Rakanati. Per centrare il traguardo della partecipazione alla terza serie nazionale per il quinto anno di fila, i nerazzurri non dovranno perdere a Pagani.